Sono contento perché partiamo con uno stimolo in più, quello di un derby che non vediamo da sei anni, dal 2009, da maggio, non mi vedeva protagonista quel derby perché non c'ero ancora, però è una cosa che non ho mai fatto come presidente del derby con la Serenitana, però c'è sempre una prima volta, così come c'è sempre una prima volta anche a Cagliari, insomma, e lì vedremo quello che succede. Faremo in modo di poter portare i nostri tifosi allo stadio, io approfitto del rapporto che abbiamo con la federazione, in particolar modo con Abbodi, per fare in modo di lanciare un messaggio forte e chiaro anche con Lotito e con i dirigenti della Serenitana. Noi non andiamo a fare guerra a Salerno, andiamo semplicemente a fare una partita di calcio e andiamo a cercare di vincere la partita. Qual è il nostro obiettivo? Basta. Lotito? A parte il fatto che poi ci intercettano perché vogliono sapere che parliamo eccetera, sì sì, no ma non abbiamo problemi con Lotito assolutamente, non l'ho ancora sentito da quando è uscito il calendario. E' meglio che non gli dico niente, glielo dico la voce che andiamo lì per vincere. Sul fronte mercato Taccone ribadisce che non arriverà più nessuno e che Marcello Trotta resterà in bianco verde. Abbiamo già dato tanto, buono e soddisfacente. Trotta resta e siamo tutti contenti. E' dopo il presidente Taccone, microfoni per Marco Chiosa che si è soffermato sui progressi del reparto difensivo e sulla valenza, sull'importanza di questi test, ricordando che dopo l'amichevole di oggi ci sarà un ultimo impegno precampionato sabato qui al Partenio contro il Cosenza dell'ex Arrighini, formazione di Lega Pro. Sicuramente queste partite hanno dimostrato ancora il fatto che siamo in fase di preparazione perché comunque non stiamo preparando le gare dal punto di vista atletico come una partita di campionato perché nei giorni precedenti, molto prima della partita, lavoriamo ancora tanto per prepararci la settimana prossima ad essere al top. L'anno scorso abbiamo fatto bene dal punto di vista difensivo, lo dimostrano i risultati. Quest'anno abbiamo cambiato modulo, abbiamo ripreso praticamente il modulo del fine stagione scorso. Sicuramente cerchiamo di giocare di più la palla ma diciamo che per la linea difensiva cerca di iniziare molto spesso l'azione con il pallone tra i piedi. Quindi diciamo che si può essere più vulnerabili in eventuali errori con la palla al piede, quindi qualche passaggio sbagliato. Sicuramente iniziamo il campionato con una partita aspettata da tutti i tifosi. Era tanto tempo, non so quanto, che non si riprese, sei anni che non si ripresentava questo derby. Per noi è uno stimolo in più per cominciare bene il campionato. Andiamo in uno stadio che sono sicuro sarà pieno di gente, le aspettative sono altissime sia da parte loro che da parte nostra. Quindi diciamo che come inizio di campionato non c'è niente di più stimolante.